E caccia al riscatto per la Fidelis Andrea che domani al Degli Olivi affronta il Francavilla di Lazic con la consapevolezza di avere anche un'arma in più dopo il match perso a Lavello e cioè il caloroso sostegno dei propri tifosi seppur lontani dallo stadio. L'accoglienza di ritorno dal paese lucano ha dato carica e responsabilità in più al gruppo Fidelis. Ci ha stupito un po' tutti no? Anche personalmente perché in tanti anni di calcio ho giocato in questa esperienza da allenatore non mi era mai capitato soprattutto dopo una sconfitta ricevere questo dai nostri tifosi. È una cosa che ci riempie d'orgoglio e nello stesso tempo ci fa digerire la sconfitta in una maniera diversa perché ci ha dato molta spinta per preparare la partita di domani. A certificare un legame che sembra essere davvero importante in questa stagione è stato proprio il tecnico Luigi Panarelli nella conferenza stampa pre-gara. Le scorie del match contro il Lavello si chiamano soprattutto squalifiche. Della gara contro il Francavilla non faranno parte Capitan Manzo e Venturini entrambi squalificati per un turno. Mancano due elementi che hanno fatto il primo scorso di campionato in maniera positiva però sono sicuro che chi andrà a sostituire loro farà una gara degna di nota. Le due assenze saranno in parte ristorate dalla presenza invece del neo arrivo Simone Figliolia per l'attacco Biancazzurro, un attaccante che va a ricoprire un tassello mancante nel gioco di Panarelli. Completare una caratteristica che ci mancava, quella di saper proteggere palla, andare su di testa e essere bravo nel gioco aereo e quindi si è inserito molto bene questa settimana un ragazzo che conoscevo, avendo l'avuto anche dal Tamura e quindi andiamo a preparare la partita con un'arma in più. Sulla via del recupero Paparusso, che ha ricominciato gli allenamenti con il gruppo, lavoro equilibrato per Cerrone, ha spiegato Panarelli che sarà a disposizione del tecnico Andriese dopo il forfè nel riscaldamento di Venosa. Chi preoccupa è invece Monaco, che resterà in dubbio sino alla fine. Difficile un cambio di modulo, comunque più probabile un adattamento dell'undici titolare alle assenze. Del Francavilla bisognerà temere senza dubbio il grande agonismo e l'esperienza di una squadra plasmata da un tecnico come Lazic. Il Francavilla Insini è sempre stata una squadra dura da affrontare, tosta, è sempre stata una squadra organizzata, però cercheremo di dare il nostro meglio rispettando l'avversario e di cercare di portare a fine partita un risultato positivo per noi. La gara avrà inizio alle ore 14.30 e sarà trasmessa in diretta come di consueto sui canali social della Fidelisandria, Facebook e Youtube, grazie alla produzione realizzata dal partner dei Biancazzurri Telesveva.